Le capacità coordinative sono quelle capacità che permettono di eseguire movimenti complessi in modo fluido e preciso. Sono fondamentali per il corretto sviluppo motorio del bambino. Vengono controllate direttamente dal sistema nervoso centrale. Si sviluppano prevalentemente nella fase prepuberale, prima dei 12-13 anni. Per tale motivo risulta importante in questa fase svolgere attività motorie varie e coinvolgenti attraverso giochi ed esercizi che stimolino la creatività e l'adattabilità. Le capacità coordinative si dividono in generali e speciali. Quelle generali permettono al corpo di muoversi in modo efficiente e coordinato e sono fondamentali per l'apprendimento e l'esecuzione di una vasta gamma di attività motorie. Le capacità coordinative speciali sono essenziali per eseguire movimenti complessi e adattarsi a situazioni specifiche che richiedono una precisione e un controllo elevati. Le capacità coordinative generali si suddividono in capacità di apprendimento motorio e la più importante. Entra in gioco tutte le volte che dobbiamo acquisire e perfezionare schemi di movimento. In sintesi ci permette di imparare un nuovo movimento. Capacità di controllo motorio permette di organizzare e dosare esattamente l'azione motoria in base agli scopi previsti. In sintesi ci permette di controllare e regolare un movimento. Capacità di adattamento motorio e trasformazione riguarda la capacità di modificare il movimento di fronte a una situazione imprevista adattando il proprio movimento alla nuova richiesta. In sintesi ci permette di adattare e trasformare il movimento in rapporto alla situazione. Le capacità coordinative speciali. Capacità di accoppiamento e combinazione è la capacità di coordinare e di integrare diversi movimenti consecutivi o contemporanei tra loro. Essenziale per eseguire attività complesse con precisione ed efficienza. Capacità di equilibrio è la capacità di mantenere controllo, il controllo della posizione del corpo sia staticamente che dinamicamente per prevenire cadute e garantire stabilità durante i movimenti. capacità di coordinazione oculomuscolare è la capacità di sincronizzare i movimenti degli occhi con quelli del corpo permettendo di eseguire azioni precise e mirate in risposta a stimoli visivi. Capacità di reazione è la capacità di rispondere rapidamente e adeguatamente a uno stimolo esterno attraverso movimenti appropriati. Capacità di orientamento spazio-temporale è la capacità di riconoscere e regolare la posizione e il movimento del corpo in relazione allo spazio circostante e al tempo essenziale per eseguire movimenti coordinati precisi. Capacità di ritmo è la capacità di percepire, comprendere e riprodurre schemi temporali regolari nei movimenti, fondamentale per eseguire azioni motorie in maniera sincronizzata e fluida. Capacità di referenziazione cinestetica è la capacità di percepire e regolare con precisione la forza, la velocità e l'ampiezza dei movimenti adattandoli alle esigenze specifiche di un'azione. Capacità di trasformazione è la capacità di adattare e modificare rapidamente i movimenti in risposta a cambiamenti improvvisi nelle condizioni e nei requisiti dell'attività. Vediamo una sintesi. Le capacità coordinative generali. Capacità di apprendimento motorio ci permette di imparare un nuovo movimento. Capacità di controllo motorio ci permette di controllare e regolare un movimento. Capacità di adattamento motorio ci permette di adattare e trasformare il movimento in rapporto alla situazione. Vediamo le capacità coordinative speciali. Capacità di accoppiamento e combinazione ci permette di collegare diverse abilità motorie già acquisite. Capacità di equilibrio ci permette di mantenere il corpo in una determinata posizione statica, dinamica o in fase di volo. Capacità di coordinazione oculomuscolare ci permette di coordinare braccia e gambe. Capacità di reazione ci consente di reagire motoriamente il più velocemente possibile. Capacità di orientamento spazio-temporale ci permette di regolare la posizione e il movimento in relazione allo spazio e al tempo. Capacità di ritmo ci permette di organizzare i movimenti in maniera regolare fluida. Capacità di differenziazione cinestetica ci permette di dosare il tono muscolare e la forza per compiere un gesto motorio. Capacità di trasformazione ci permette di modificare rapidamente i movimenti a seguito di cambiamenti improvvisi.